a tutti e benvenuti da ombretta su arte per te oggi un video in cui dipingeremo queste magnifiche iniziali beh in realtà ne dipingeremo soltanto una di queste ma vi spiegherò il modo per realizzarle in modo semplice efficace e soprattutto bellissimo stupendi come regali per ogni occasione ve ne parlerò più in là nel video ma anche come quadretto decorativo per casa ma adesso basta chiacchierare e cominciamo il nostro alfabeto con la lettera a dipingere la nostra iniziale ci servirà una matita una gomma un righello un buon pennello io uso quelli della serie tintoretto con cui mi trovo bene sono tutte setole sintetiche di varie dimensioni come vedete delle tempere che possono essere tempere alla caseina acrilici io sto usando acrilici in questo momento ma voi potete usare anche gouache con la gouache vengono bellissimi e poi degli acquerelli dorati io uso questi della coliro vi metto il link in info box perché vedrete hanno un effetto spettacolare come carta uso la water color fabriano a 25 per cento cotone e divido i fogli a metà in modo che vengano delle pezzature 20 per 20 riquadro il mio campo d'azione in modo da lasciare un margine in colore quindi faccio due bordure più strette una da circa 3 mm è una leggermente più piccola all'interno centro quello che voglio sia il campo di sviluppo della mia iniziale farò una quindi sto ponendo la base della equidistante dai margini e poi vado a cercare il centro nella parte superiore creo lo spessore di quello che voglio sia l'altezza della mia del mio incipit ecco il righello mi aiuto per tracciare una linea precisa questa linea che traccia righello poi la ripasserò assolutamente a mano libera vedete per muovere l'iniziale perché in ornato la linea passata dritta a righello è veramente brutta a vedersi e rende troppo grafico il disegno io invece voglio che abbia un sentore pittorico quindi tolgo il passaggio a righello che mi è servito da guida e lo ripasso in maniera leggermente più incerta a mano libera creo gli spessori della tridimensionalità e adesso comincio ad inserire i ghi rigori parto dal centro con una sorta di fiore di loto e poi piano piano creo dei movimenti con dei ghi rigori che simulino varie forme varie tondeggiature mi raccomando che queste tondeggiature siano speculari da una parte e dall'altra del disegno io ho preso spunto per la mia iniziale naturalmente da un libro che ho ma su internet se cercate iniziali ne trovate veramente di qualsiasi forgia barocche moderne quelle che accompagnano maggiormente il vostro gusto ecco come vedete guardate io qua sto molto attenta a fare la tondeggiatura di questo fogliame esattamente simile a quello che c'è dall'altra parte perché questo se lo facessi differente con un andamento troppo diverso disturberebbe l'occhio e farebbe pendere l'iniziale più da una parte che non dall'altra adesso preparo il colore mischiando blu verde e bianco verrà fuori una sorta di verde ottaneo una tinta tra l'ottaneo e il petrolio che a me piace molto in questo periodo con questa colorerò tutto l'interno delle lettere e l'interno dei vari dirigori e iniziale che a me piace molto in questo periodo Grazie a tutti. 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 Adesso con un pennello piatto posto in verticale scivolo per fare le bordure. È molto semplice, basta non pensare a ciò che si fa. Come vedete ho dato una tinta piatta e omogenea su tutto. Rimossa con la gomma tutta la parte a matita. Qui era ancora fresca e me lo sono un po' portato ma non importa tanto poi l'acrilico e coprente riuscirò a rimettere tutto a posto. Comincio a fare la parte verde. Come vedete io cerco di dipingere sempre da sinistra verso destra in modo da non toccare con le mani le parti via via appena fatte. Se siete mancini cominciate dall'altra parte sto usando un verde che è contenuto anche nell'azzurro di fondo. L'azzurro di fondo è fatto con questo verde, con del blu e con del bianco in modo che ci sia un accordo tonale. Quindi verrà un contrasto dolce, non verrà un contrasto squillante. A questo punto prendiamo la parte verde. Sciogliamo l'azzurro con cui abbiamo fatto la lettera, sciogliamo un po' meglio del bianco in modo da renderlo più chiaro e piano piano raddrizziamo tutto il lavoro e lumeggiamo. Adesso aggiungo tutte le macchie verdi e sistemo le fessurine delle foglie, quindi i tagli delle foglie. Ok, una volta asciugatosi tutto il lavoro, lo veliamo, lo antichizziamo leggermente. Con un marrone sporcato di blu, molto molto diluito, velo tutto il mio lavoro. Passandoci sopra, così. Questo passaggio antichizzerà moltissimo il lavoro. Siate molto molto diluiti nel passaggio di questo terraombra. Bene, lascio asciugare completamente e poi diamo i colpi di lumeggiatura. Adesso prendo un po' di bianco, creando una mestica molto più chiara del colore base e comincio a lumeggiare. E dando tanti colpetti che vadano a tirare fuori il lavoro nuovamente. Ma in maniera così, molto disinvolta, a questo punto diciamo che il tutto è finito. E' solo da enfatizzare. Ok, dopo aver lumeggiato un po' il tutto con un colore più chiaro, prendo il dorato e piano piano profilo con l'oro. Dando delle pennellate belle, libere, ma anche non tutte dello stesso spessore. In alcuni punti vado più abbondante, in altri mi mantengo più delicata. In modo da dare una cangianza al riflesso dell'oro. In modo da dare una cangianza al riflesso dell'oro. Che ne dite? Non è un regalo di lusso? Eh sì, è proprio un regalo di lusso. Una cosa di queste è vendibile a un costo veramente sostenuto. Perché come avete visto c'è molto lavoro, è molto studiato. Anche se i prototipi non sono originali. Perché naturalmente si trae ispirazione da ciò che magari si trova su internet o da antiche miniature. Quindi non sono prototipi del tutto originali. Però sono totalmente fatti a mano. E arricchiti secondo appunto la maestria di chi li fa. Anzi se volete. Io ve lo dico. Io le produco. Di conseguenza le vendo. Se foste interessati come regali. Sono vendibili. E vi faccio vedere altre tipologie qui. Per esempio una M con il colore rosa. Queste sono leggermente più grandi. Un'altra M con il colore blu e marrone. Oppure che ne so. Ho dei campionarie. Questa non è ancora finita. Una R. Guardate che bella. Oppure una L. Oppure una C. Ma ce ne sono tante tante altre. Insomma sbizzarrite la creatività con gli accoppiamenti di colore. Qui ho anche la P. Nella stessa gammatura di questa che vi ho fatto vedere. Queste vedete è un po' più grande. Quella è un po' più piccola. Perché l'ho fatta per il video per sbrigarmi un po' prima. Bene pollice in su se questo video vi è piaciuto. Vi lascio a delle foto che inquadrino in maniera più veritiera il lavoro. E noi ci vediamo subito dopo. Grazie a tutti.